Vai! Siamo detenute ma siamo anche donne. Inaugurato un'area attrezzata dedicata a taglio e styling all'Istituto Penitenziario Antonio Lorusso Pagliarelli di Palermo all'interno della sezione femminile. L'iniziativa rientra in un progetto benessere dedicato alle detenute del reparto grazie alla donazione di specifiche attrezzature da parte dell'associazione Inner Wheel Club Palermo Centro. L'obiettivo è quello di valorizzare l'immagine femminile e di favorire la convivenza creando un momento di socializzazione ma anche per porre le basi all'introduzione dei corsi di formazione a cui le detenute potranno partecipare per ottimizzare il loro tempo in prigione e per assicurarsi un futuro migliore. La donazione e la generosità di saloni di parrucchieri e di cosmesi hanno consentito di dare vita all'iniziativa. L'obiettivo del progetto è quello di non far perdere alle donne la propria femminilità ma anche quello più grande di formare le detenute per un futuro migliore. Quando usciranno dal penitenziario potranno utilizzare ciò che hanno imparato, un'occasione per trovare un lavoro. Al taglio del nastro erano presenti le massime autorità regionali dell'amministrazione penitenziaria con a capo il provveditore regionale per la Sicilia Cinzia Calandrino nonché per la direzione del penitenziario Maria Luisa Malato il capo area trattamentale Rosaria Puleo e il comandante del reparto dirigente aggiunto Giuseppe Rizzo.